Benvenuti a questo secondo episodio di HZFANNI, buona visione, e commentate, vedete come mi piace, da che ci siete. Gli umani scopriranno cosa succede quando si incontra un signore della guerra dei furon di settantaquattresimo livello. Ma il livello massimo non è da sessanta. E che stai zitto? Allora, auscultami, fai fuori quelli che vendono alle runner girl i potenziatori di velocità, quelli che hanno costruito il loro nascondiglio e il discount in cui comprano le rotelle di scorta. Solo allora penetreremo nel loro covo con il mio bigueli e andiamo per l'impero dei furon e per la mia catena di fast food di cui questa volta non farò il nome. Bella storia, zio. Ci sono tre gruppi di runner girl in città. Infiltrati tra di loro e scopri dove si procurano la roba. Ma che ci vuole, vado. Appunto, è una cazzata. No. Preca. No, no, no. Mi domani. Per cavare i fatti di salvigliare. Voilà. Adesso andiamo a investigare. E' bello di notare con i fatti di... Ah, eccomi qua al primo. e io al diavolo la scuola e mi sono uniti le truppe del coronello ma dai l'hai fatto per imparare la nostra tecnica kung fu già dalla cina con furore che cavolata di gira fa 6 volte da mio nuovo corpo beh eccoci al secondo non sarò sexy ma preferisco un bel cric al tirapugni me ne ho possibilità di romperti un'unghia non hai tutti i torti ma Gianni mi ha appena regalato un tirapugni tempestato di diamanti e i diamanti hanno la forma di cuore ciao belle ragazze sapete mica dove potrai trovare un po' di quella roba che vi tira su di giri mi sento un po' giù ah è facile la trovi nel granaio poco fuori città una domanda più difficile e quelli che hanno costruito il vostro voglio dire il nostro nascondiglio sono qui intorno ma dovresti saperlo perchè lo chiedi? oh sono queste nuove mentine mi fanno scherzi strani alla memoria beh ora fila al granaio non vorremmo che ci rallentassi mentre diamo la caccia a quel pervertito pervertito? oh no niente ti sei becca in giro oh no niente ma quanto sono deficienti spiego quelli alla riscossa e soppendo la ruota molto più letale via ok ecco arrivato andiamo il possibile accorto morite tutti? morite? morite? ragazzi sono superman ah andiamo un pochino hai il mio pranzo a sacco perchè? 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 perfintappola E' un'altra cosa Dopodiché vedi prima, faccio spattare un pochino. Spero che vedi il scorso toglie. I suzzebbe fuoco preta. ahahahahah è il momento aver detto un piatto che mi ha servito caldo dentro 4 minuti non si va a fare tentite, contrite, ardente e ora distruggi loro nascondiglio usa la potenza di biguilli a niente qualsiasi cosa si muova su dei fatti obbedisco, vado e faccio un casino ahhh scarica da 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 vado voilà schifezza rugosa ha distrutto il nostro nascondiglio e ora che facciamo, colonnello? dovremmo fargli alla pagare ora ascoltati io ti darò un aiuto e spiegheremo a quel maniaco alieno come gira il fumo da queste parti che tesoro? giusto colonnello, lo sistemeremo da bene ci puoi scommettere le chiappe ok basta così non vorrei mica farti imparare assai chiudo si signore, mi preparo bene, episodio è compiuta questo episodio è finito ci rivediamo a un altro episodio ciao